Mi chiamano Mimì ma il mio nome è Lucia, diceva la Bohème, invece nel mio caso mi chiamano Dr. Wine ma il mio nome è Daniele Cernilli, sono un giornalista, ho cominciato tanti anni fa nel 1979, nell'86 ho cofondato il Gambero Rosso, ho inventato il sistema di scoring di punteggio dei tre bicchieri per i vini ovviamente che è diventato famoso un po' in tutto il mondo. Da qualche tempo mi sono messo per conto mio e ho fondato Dr. Wine, è una web magazine che ormai ha cinque anni di vita e si occupa ovviamente di vino e di tante altre cose, è tradotto anche tutto in inglese e sta avendo un significativo successo. Da qualche anno faccio anche un'altra cosa per la Mondadori, una guida dei vini che si chiama Guida Essenziale ai vini italiani, che è una pubblicazione che ha avuto un piccolo ma significativo successo ed è diventata una delle guide di riferimento. I vini sono valutati in centesimi e quando il punteggio supera i 95 centesimi, che vuol dire prendere 9 e mezzo a scuola, allora io ci metto il faccino, che vuol dire ci metto la faccia su quel vino lì, è talmente buono che mi posso anche esporre. Il gruppo di Dr. Wine che ho messo su è composto da persone che hanno assaggiato tanto, che sono competenti e che soprattutto sono oneste intellettualmente. Siamo nello stand del Dr. Wine Selection, abbiamo selezionato un centinaio di vini, dei migliori vini italiani, che sono a disposizione negli erogatori che ci sono qui alle mie spalle. Sono degli erogatori che tengono il vino sotto azoto, quindi in perfette condizioni e operatori del settore, italiani ma soprattutto internazionali, stampa, giornalisti, possono venire qui e liberamente assaggiare cosa ritengono. Noi gli diamo una lista dei vini che abbiamo scelto e loro sono liberi di prendere il bicchiere e assaggiare quello che vogliono. Quindi in tempi ristretti, in uno spazio unico, possono sentire veramente quello che è il top dei vini italiani. Inoltre offriamo diversi seminari, quindi degustazioni guidate, spiegate e raccontate dal Daniele Cermigli, che è il Dr. Wine in persona o uno comunque dei nostri collaboratori, seminari che raccontano il vino italiano con focus su determinate zone o determinate tipologie. Grazie. 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 Grazie.